Ad oggi sono 26 in Italia i decreti ricognitivi dei precedenti che stabiliscono praticamente una situazione di prediscesso. Noi non siamo tra quelli e quella è una buona notizia. Poi è chiaro che i problemi del compatto ai provinci italiani sono concamati, esistono e non sono risolti. Noi chiudiamo il bilancio avvalendoci di misure straordinarie che sono la dimensione di un bilancio annuale, quindi non triennale come prevede la legislazione legata agli enti pubblici, la rinegoziazione dei mutui cassa depositi e prestiti che ci consente di far zittare in avanti 9 milioni di pagamento di rate e l'applicazione di una parte di avanzi di amministrazione che per fortuna abbiamo per una quota pari a 1,7 milioni di euro che sicuramente ci aiuta a disporre una chiusura in equilibrio per il terzo anno consecutivo.